Credi Agricola Assicurazioni è la compagnia di assicurazione del gruppo di banca assicurazione Credi Agricola in Francia, che opera in 52 paesi a circa 160.000 dipendenti e distribuisce i prodotti di protezione per la persona, i beni e le abitazioni attraverso il canale bancario Credi Agricola in Italia e altre società del gruppo, quali ad esempio Agos. Per Credi Agricola Assicurazioni le tematiche digitali sono fondamentali perché consentono di velocizzare la relazione con il cliente, di rendere le informazioni rapidamente disponibili per il cliente e consentire di costruire, di dedicare il tempo alla relazione umana con il cliente. È un nostro motto 100% digitale ma anche 100% umano. Nel nostro modello di gestione il rapporto tra cliente e liquidatore è in prima battuta telefonico. Il cliente contatta la compagnia, non ci sono intermediari tra il cliente e la compagnia, il rapporto e il dialogo è diretto tra chi detiene le competenze, il liquidatore e il cliente che ha il suo bisogno da rappresentare. Il liquidatore lo rassicura e segue tutto l'iter della pratica e rimane il suo punto di riferimento, anche attraverso i canali digitali, quali app, quali portale, dove il cliente trova tutte le informazioni sullo stato di avanzamento della sua pratica. Noi abbiamo un'ottica di digitalizzazione e di gestione di tutte le informazioni in entrata e uscita. Abbiamo deciso nell'ambito della gestione dei sinistri di avvalerci della collaborazione di un partner esterno che gestisce tutte le informazioni in entrata e tutti i canali, dall'email alla postalizzazione alle informazioni digitali che ci pervengono e ci consente di averle a disposizione all'interno dei fascicoli di sinistro, agevolando e velocizzando il processo di gestione da parte del liquidatore e quindi la relazione con il cliente. Per noi i progetti digitali che sono stati avviati e la gestione delle informazioni in entrata e in uscita sono strategiche perché consentono di ottenere un efficientamento dei processi interni e ai liquidatori, quindi ai gestori sinistri, di dedicare il tempo che risparmiano nell'identificazione e classificazione dei documenti che abbiamo demandato al nostro partner esterno, dedicare appunto questo tempo alla relazione con il cliente. Per noi misurare la soddisfazione del cliente è fondamentale, tant'è che rileviamo mensilmente e annualmente la soddisfazione del cliente per apportare delle modifiche al processo di gestione della relazione tra il cliente e la struttura liquidativa, migliorare la digitalizzazione e consentire al gestore sinistri di dedicare il maggior tempo possibile alla relazione con il cliente. In particolare nella survey annuale il 91% dei clienti hanno manifestato la soddisfazione rispetto al servizio che è stato erogato nell'ambito della gestione dei sinistri e l'indice di raccomandabilità è di 31 punti. Tra le novità che vogliamo introdurre per migliorare sempre di più la relazione cliente-compagnia c'è il fascicolo cliente, il fascicolo che consente di scambiare in maniera rapida e veloce i documenti tra cliente e compagnia. Un'altra importante novità è l'introduzione dell'agenda per il cliente che consente allo stesso di fissare un appuntamento per dialogare direttamente con il liquidatore che l'ha seguito fin dalla fase di di apertura del sinistro.